Hai mai giocato a un videogame? Il mondo videoludico non gode sempre di ottima fama tra i non addetti ai lavori, e noi siamo qui per rimediare. In ogni puntata approfondiamo un aspetto del gaming, con professionisti che ne hanno fatto un alleato per insegnare, conoscere e raccontare il nostro tempo. Videogiochi e competenze è un podcast realizzato da AreaX, iniziativa d'Intesa San Paolo Assicura, il primo spazio esperienziale che, grazie a realtà virtuale e gamification, permette a chiunque di sperimentare in prima persona il valore della protezione assicurativa nelle situazioni di vita quotidiana. AreaX nasce dall'impegno costante del gruppo Intesa San Paolo nello sviluppare la cultura assicurativa in Italia. In questo episodio capiamo l'importanza di guardare oltre al videogioco come medium di intrattenimento, scoprendo uno spazio sociale sempre più importante per formare gli adulti di domani. Ne parliamo con Simona Tirocchi, professoressa associata in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino. I videogiochi negli ultimi 30 anni sono cambiati molto, diversificandosi e raggiungendo una certa maturità in fatto di linguaggi, di forme e anche di qualità artistica. A questo punto non possiamo più congedarli con una frasetta, con poche parole, ed è possibile capirli veramente soltanto mettendoci un po' di impegno, studiandoli un pochino, perché appunto avendo raggiunto questa maturità sono diventati complessi, di una complessità che non riguarda solo le forme creative, ovvero oppure le forme di intrattenimento, ma anche da un punto di vista della complessità che il videogioco ha raggiunto in quanto attore e sociale, e contesto sociale, ha un ruolo sociale e formativo ormai, lo possiamo dire, come altri media prima di lui, forse con un'immersività mai vista. Quindi Simona, come possiamo capirlo meglio? Quali sono i risultati più interessanti della ricerca che avete condotto, del vostro lavoro da questo punto di vista? Parlando di videogiochi, mi fa particolarmente piacere far riferimento ad una ricerca che abbiamo condotto tra il 2015 e il 2018 e che ha coinvolto ben otto paesi di tre continenti. Una ricerca coordinata dalla Spagna, da Carlos Scolari, ma che ha visto coinvolte l'Italia, il Portogallo, il Regno Unito, la Finlandia, l'Australia, l'Uruguay e la Colombia. Mi riaggancio proprio a quello che hai detto con riguardo alla capacità formativa e di socializzazione dei videogiochi. Nella ricerca di cui sto parlando, che si intitolava Transmedial Literacy, Transliteracy, e il cui sottotitolo era Sfruttare le Transmedia Skills e le Informer Learning Strategies, le strategie di apprendimento informale per migliorare l'educazione formale, i videogiochi sono stati uno degli oggetti di attenzione insieme ai social media e alle culture partecipative. Che abbiamo visto lavorando con i ragazzi tra i 12 e i 18 anni? Abbiamo visto che in realtà appunto i videogiochi, lungi dall'essere soltanto una forma di divertimento o di passatempo, aiutano a sviluppare delle competenze. Innanzitutto però, prima voglio dirti che lo abbiamo scoperto proprio dalle parole dei ragazzi. Nel senso che la ricerca era fatta di metodi quantitativi e qualitativi. Una ricerca che ha fatto uso di Mixed Methods, che significa che noi oltre a usare dei questionari abbiamo sentito i ragazzi attraverso delle interviste in profondità ma anche dei workshop partecipativi all'interno dei quali i ragazzi hanno parlato di videogiochi e hanno mostrato quali strategie utilizzano anche all'interno dei videogiochi per giocare ai videogiochi. È interessante e questa cosa qua conosco un po' di formatori non formali che farebbero i salti di gioia o magari l'hanno già letta a sapere che è stato ricercato proprio questo il fatto che sia un ambiente di apprendimento non formale perché non è banale. Assolutamente su questo infatti volevo semplicemente fare una parentesi appunto noi sappiamo che le agenzie di socializzazione formali tradizionali da sempre sono la famiglia la scuola una volta era la religione che ha perso un po' diciamo la sua forza con i ragazzi ma oggi sempre più ormai è riconosciuta la capacità dei media di formare in un modo o in un altro certamente non sempre in modo positivo o in modo negativo è da determinare quello insomma non semmai come dire non abbiamo delle ricerche scientifiche che ci dicano in quale percentuale i media appunto facciano bene o male ma sappiamo che essi non fanno bene o male perché è l'uso che noi ne facciamo lo stesso vale per i videogiochi cioè i videogiochi come dicevi tu più di altri media oggi grazie proprio alla loro capacità di attrazione grazie al loro ambiente immersivo ai loro codici comunicativi hanno una forza tale da diventare davvero un ambiente di socializzazione informale molto potente per i ragazzi un ambiente che contribuisce a costruire le loro identità e anche a regolare in qualche modo a scandire i rapporti con il gruppo dei pari ma anche con appunto le figure tradizionalmente e istituzionalmente importanti per loro come i genitori o altri fonti di autorità ok e quindi insomma appunto mi stavi dicendo Simona che lo vedono loro stessi come un momento di formazione personale cioè lo riconoscono loro stessi dalle loro parole emerge che è qualcosa che li aiuta qualcosa che li può diciamo preparare poi alla vita adulta sì assolutamente su questo c'è una capacità davvero di autoriflessione da parte dei ragazzi perché loro riconoscono davvero di trovare degli elementi degli ingredienti in questi videogiochi che appunto li aiutano intanto a riflettere un po' su se stessi sulle loro anche potenzialità ma anche appunto a saper per esempio controllare l'aggressività in certe fasi ragionando per esempio sulle conseguenze delle proprie azioni oppure possono aiutarli a rispettare le regole laddove un videogioco comunque fissa dei limiti delle regole che magari appunto entro i limiti naturalmente di una appunto di una visione gamificata insomma della realtà riescono appunto a vedere questo tipo di prospettiva e secondo anche secondo i ragazzi un'altra prospettiva è anche quella appunto di giocare sull'identità con l'identità conoscere e scoprire nuovi mondi e diventare chiunque tu voglia essere loro ci hanno detto giocando proprio sulla possibilità di sperimentazione che i videogiochi consentono con il role playing quindi come dire indossando una maschera piuttosto che un'altra e quindi anche attivando tutta una serie di comportamenti e atteggiamenti che i ragazzi appunto mettono in atto quando interpretano dei personaggi e quando appunto debbono intraprendere delle sfide mi viene in mente da queste cose che dici Simona questo podcast è realizzato in collaborazione con Area X che è il museo della sicurezza che serve di Intesa San Paolo Assicura che serve a sensibilizzare sull'importanza della protezione personale del ruolo dell'assicurazione e degli elementi sicuri nella vita di una persona e creare questo ambiente qua nel videogioco un nostro caro amico direbbe un come se ovvero una cosa in cui sperimenti senza conseguenze gravi quello che può succedere mi sembra un ottimo strumento in cui uno può sperimentare i rischi e le conseguenze di azioni di comportamenti di modi di fare e quindi si possono creare in questi in questi ambienti digitali delle simulazioni per poi appunto sia dal punto di vista del soft skill ma anche dal punto di vista della consapevolezza sviluppare appunto molta più consapevolezza ci sono altre di queste soft skill che ritiene importanti sottolineare che possono i ragazzi apprendere negli ambiti di gioco sia quelli commerciali che magari chissà in futuro dei videogiochi creati appositamente Hai colto intanto un elemento importante che è appunto quello proprio delle competenze critiche che i ragazzi sono portati a sviluppare attraverso l'uso dei videogiochi Prima abbiamo parlato un po' per esempio di una soft skill che secondo me abbiamo imparato anche durante tutta l'era della pandemia quella della resilienza il fatto di resistere a certe situazioni e quindi come dire portare avanti in maniera critica consapevole ma anche in qualche modo paziente quindi certe certe sfide andare avanti ed affrontarle con sempre maggiore perseveranza ma un'altra anche che mi viene in mente di queste soft skills è anche la capacità di essere flessibili la flessibilità l'adattamento alle diverse situazioni quindi se c'è una nuova sfida che viene proposta dai videogiochi e che bisogna come dire provare a superare appunto a mettere a mettersi alla prova all'interno di questa sfida ecco magari il videogioco aiuta a mettere in campo una serie di strategie di apprendimento e autoapprendimento che possono aiutare appunto in questa prospettiva che poi è tipica sempre di questa società ormai che non chiamiamo più liquida ma post-pandemica è tipica proprio della flessibilità che ci viene richiesta di riadattarci a delle nuove prospettive di vita e di relazione sociale e dopo tutto è un po' una metafora del videogioco magari sbagliare fare dei game over ma non perdere la propria integrità e sapersi appunto adattare per superare tutto questo questa grandissima confusione che è il che è il 2022 insomma però per capire meglio i videogiochi adesso che sono appunto come dicevamo in apertura di questo episodio si sono rivelati così complicati complessi tante volte magari in famiglia non è facile capire se il proprio figlio sta giocando a un gioco che va bene un gioco che non va bene serve immagino un po' di alfabetizzazione a questi temi assolutamente non ci vedono ma io vedo che hai avuto ho subito come dire approvato quello che hai detto sì hai colto anche stavolta un nodo centrale che riguarda proprio l'acquisizione di una competenza critica nell'uso dei media allora qui in Italia dalla fine degli anni 90 almeno che si parla di media education come la chiamavamo una volta e oggi la chiamiamo digital education ma anche media literacy e digital literacy che vuol dire l'insieme delle competenze critiche che dobbiamo acquisire per poter appunto pervenire ad una educazione critica e consapevole all'uso delle tecnologie comunicative quindi insomma digital literacy per tradurlo un'alfabetizzazione digitale e media literacy uguale esatto però quando parliamo di digitale attenzione è un'alfabetizzazione che non è soltanto non si limita soltanto a saper usare appunto accendere un computer saper fare appunto l'accesso a un videogioco ma sapere capire cosa c'è dietro alla sceneggiatura di quel videogioco chi lo ha prodotto leggere tra le righe intenzioni con quale quale ideologia o valori ci sono dietro a un videogioco e per questo oggi parliamo sempre più in modo complesso di digital literacy e di transmedia literacy perché torno al titolo della nostra ricerca quella che ho condotto io per far riferimento a un'evoluzione anche dell'ecosistema mediale nella direzione anche di una convergenza dei vari sistemi dei device infatti oggi parliamo di videogiochi multipiattaforma e anche una convergenza dei contenuti che è sempre più frequente per cui mi dirai come si fa come dire ad acquisire questa consapevolezza lì ci vuole appunto un'attenzione educativa in primo luogo naturalmente dei genitori della famiglia ma anche della scuola in collaborazione con la scuola per cercare davvero di educare ad un uso corretto e consapevole che non significa togliere i videogiochi ai ragazzi o togliere loro lo smartphone o altri dispositivi ma significa ragionare su quello che può essere appunto un uso davvero utile di questi videogiochi avere un momento sì che può essere un uso per svago oppure un uso anche per appunto quasi catartico appunto come dicevamo per per un'aggressività che può essere convogliata in un certo modo e poi anche un uso quello di cui ancora non abbiamo parlato collaborativo cioè che altro possono servire per esempio i videogiochi anche a creare un momento di relazione all'interno della famiglia sappiamo sempre di più che per esempio i ragazzi sono soliti giocare sì con i loro compagni con il gruppo dei pari ma anche ritagliarsi un momento di comunicazione particolare con la mamma o con il papà con un fratello più grande o con un fratello più piccolo e anche questo è un qualcosa che aiuta in qualche modo per certi versi a riattivare un canale di comunicazione familiare questo è un elemento e questo potrebbe essere appunto un uso consapevole del videogioco se fatto appunto con queste prospettive con certi limiti e poi un altro quindi non solo socialità online scusami ma anche socialità in casa in socialità nel nucleo familiare perché appunto quindi sì non solo la socialità e invece poi andando al di fuori quella la socialità che loro possono esperire con i ragazzi al di fuori a questo punto diventa invece giocare online con ragazzi di altre culture con ragazzi che sono distanti rispetto appunto alla realtà nostra che può essere per esempio quella italiana significa anche giocare in una lingua e parlare con questi ragazzi nella loro lingua di origine quindi per esempio imparare l'inglese imparare le lingue certo oppure appunto aprirsi ad altre culture capire quali sono le strategie che altri compagni o ragazzi possono usare per giocare ai videogiochi quindi come vedi oggi Digital Literacy diciamo che diventa davvero una sfida che significa prendiamo il buono che c'è anche da queste tecnologie che spesso parliamoci chiaro sono state vituperate sono state demonizzate considerate tecnologie che fanno male questo è stato detto per la tv è stato poi naturalmente ripetuto per il pc per internet soprattutto oggi lo si dice dei social media e anche dei videogiochi per cui cerchiamo di di capire qual è la parte tra virgolette che può essere valorizzata e la parte che invece magari invece va controllata perché sicuramente la nostra prospettiva non è né apocalittica né integrata esatto per citare Umberto Eco per citare un grande Umberto Eco che appunto non possiamo non citare con la sua classica definizione e dicotomia tra apocalittici e integrati che però si riferiva alla cultura di massa in quel momento certo e cosa c'è più di massa anche se individualista della cultura di internet esatto si potrebbe facilmente applicare e anzi lo applichiamo proprio come hai fatto tu a questo contesto ecco appunto quindi abbiamo capito che la digital literacy è importante anche per tutelarsi per capire meglio dopo tutto conoscere equivale a controllare quindi capire meglio come funziona il digitale e come funziona il digitale nelle nostre case in famiglia oppure con persone molto distante da noi capendo magari di cosa possiamo fidarci quali sono minacce quali sono opportunità io credo che a questo punto dovrebbe capire siccome la digital literacy mi sembra di capire che è una cosa che riguarda anche i media di una volta a me viene in mente che potremmo immagino associarla alla convergenza dei media quella teoria secondo cui i media naturalmente tendono a mischiarsi tra di loro faccio un esempio legato al videogioco dentro Fortnite si sono tenuti due concerti molto grossi uno con Travis Scott un rapper trapper di recente fama che ha avuto milioni di spettatori quindi è vero che siccome i media convergeranno avremo più a che fare con il videogioco in futuro anche fuori da una console da un gioco per cellulare ma anche negli altri ambiti della vita online e dopo tutto è un po' la gamification e il metaverso gamification queste grandi parole che ci girano attorno serve conoscerle per poter capire bene cosa stiamo affrontando e sapere cosa aspettarci per la nostra diciamo sia sicurezza che comprensione e pace mentale sì sì sono perfettamente d'accordo con te perché intanto a premessa di questa giusta osservazione che hai fatto dobbiamo dire intanto che la vita online e la vita offline sono sempre più come dire l'una lo specchio dell'altra senza soluzione di continuità c'è una continuità tra ciò che facciamo nella vita tra virgolette reale e in quella che una volta chiamavamo la vita virtuale ma che oggi non definirei più virtuale proprio perché gli spazi i tempi digitali sono diventati parte integrante della vita quotidiana quindi quando parliamo oggi del flusso proprio delle relazioni sociali e della vita parliamo proprio di questa continuità tra vita online e vita offline dall'altra parte proprio questa questa nostra realtà quotidiana è sempre più permeata come dici tu dalla gamification cioè dalla realtà del gioco che sembra pervadere proprio la realtà un po' entrata come sappiamo molto anche nelle serie tv pensiamo al successo che ha avuto Squid Game così come molte altre appunto produzioni e però appunto si sta entrando davvero ovunque se pensiamo intanto nella formazione fin dai primi anni della scuola quindi dalla scuola primaria sino poi agli anni successivi si parla sempre più di forme di game based learning quindi di forme di apprendimento che si caratterizzano per l'uso del videogioco una delle ultime che sono state appunto sperimentate quello delle escape room certo e poi più avanti poi naturalmente nella formazione aziendale sono ormai diversi anni che si parla di appunto me lo dite questa è la dimostrazione anche nell'azienda e nell'industria il gioco viene utilizzato sempre di più per un intento formativo e infine quello che hai detto certo la convergenza mediale oggi che poi alla base un po' del discorso che abbiamo fatto fino adesso vede davvero sempre più una moltiplicazione delle occasioni in cui appunto il videogioco va ad intercettare altre forme e formati della comunicazione l'esempio che hai fatto dei concerti è davvero un esempio lampante di come non si possa più prescindere dall'ibridazione anche della comunicazione della realtà proprio dell'ibridazione delle forme comunicative da la prospettiva che sembra ancora un po' immaginifica ma certo reale del metaverso quindi della creazione di mondi che sono sempre più devo dire vicini a quello che il videogioco ha già fatto alla possibilità cioè di creare degli ambienti immersivi molto molto simili alla realtà che però appunto ci fanno ormai viaggiare in maniera quasi appunto sincronica tra reale e virtuale quindi ibridazione e convergenza dei media ma anche ibridazione e convergenza tra vita fisica la chiamo così e vita digitale esatto secondo me le due cose vanno molto di pari passo e questo però è stato fino ad ora l'errore nostro diciamo non solo non voglio dire dei sociologi ma in generale di chi studia queste forme comunicative non comprendere fino in fondo che si tratta di forme che incidono sulla realtà dei nostri comportamenti sociali quindi la scuola o la famiglia non possono ignorare l'importanza sociale e storica di elementi e forme formati e linguaggi come quelli dei videogiochi perché essi fanno parte della vita dei ragazzi e non solo dal momento che quelli che una volta chiamavamo i nativi digitali e quelli che eravamo noi un pochino più in là con l'età gli immigrati digitali ormai sembrano costituire un continuum che fa le stesse cose e quindi oggi quella che chiamiamo oggi la generazione Z è però sempre più vicina anche a quello che fanno gli adulti con i videogiochi e quindi come avevamo detto prima li usano ci giocano ma li usano anche per caratterizzare delle realtà di vita quotidiana li usano proprio per gamificare delle pratiche della vita quotidiana i ragazzi hanno come dai risultati della vostra ricerca manifestato un interesse un'idea su come dovrebbe essere per loro il videogioco diciamo la vita online di cui il videogioco ne fa parte da un punto di vista sociale e la seconda domanda è c'è qualche buona pratica Simona che consigli che consiglia chi ci ascolta per conoscere in maniera non confusionaria senza dovre prendere appunti con penna tacuino lavagne di cose il videogioco insieme ai propri figli insieme ai propri genitori eventualmente allora da questo punto di vista sicuramente i ragazzi ci danno sempre dei segnali indiretti di quello che è da interpretare da interpretare certamente non ci hanno detto magari come dovrebbero essere però quello che apprezzano sicuramente sono appunto dei videogiochi che consentano veramente anche di stare insieme di collaborare nel momento in cui si va a a giocare a individuare delle strategie quindi forse devono essere sempre più immersivi da un lato perché apprezzano questa dimensione di realtà vanno molto i giochi online questo sicuramente e poi anche questa dimensione che è legata a minecraft per esempio che va per la maggiore anche di appunto costruzione di qualcosa di poter vedere poi il risultato di quello che si è visto che si è costruito lo sforzo di costituire appunto qualcosa di cui poi si vede il risultato e quindi anche questo dall'altra parte una cosa che mi era venuta in mente è il fatto che quello che vogliono vorrebbero i ragazzi soprattutto dalla scuola e che questa ricerca che abbiamo condotto in qualche modo si proponeva è che siano valorizzate di più le cose che loro fanno fuori dalla scuola gli apprendimenti non formali gli apprendimenti appunto informali come abbiamo detto prima e chiudiamo il cerchio insomma appunto cioè loro vorrebbero che fosse loro lo vorrebbero comunque lo vediamo noi che fosse apprezzata quella capacità magari che hanno di destreggiarsi all'interno di un videogioco di aggiornare addirittura magari le interfacce di modificarle di personalizzarle di creare dei personaggi o altro perché dietro quelle pratiche che sembrano apparentemente delle pratiche legate solamente al videogioco c'è in realtà una possibilità di costruire delle competenze che vanno al di là quindi proprio questo sfruttare ciò che i ragazzi fanno fuori dalla scuola per valorizzarle come competenze scolastiche e poi andiamo all'altra domanda quella di cosa fare in in famiglia affinché questo si realizza affinché questo si realizza allora lì non c'è naturalmente una ricetta scritta perché sono anni che ne parliamo all'interno proprio del nostro ambito della media education un ambito internazionale peraltro che vede per esempio in prima linea anche tutti i paesi dell'America Latina mi piace citare anche la rete Alphamed sulle competenze mediali che è una rete che raccoglie molti paesi dell'America Latina ed è coordinata dalla Spagna da Ignacio Aguaded ci sarà un convegno in Perù che coinvolgerà tra pochi mesi moltissime persone ecco no qui bisogna prima di tutto che siano gli adulti i primi a conoscere le potenzialità e i rischi dei videogiochi perché badiamo che dobbiamo pensare anche a quelli che possono essere i rischi di un uso per esempio troppo continuativo e non contestualizzato magari all'interno di altri consumi culturali del videogioco ma proprio anche una consapevolezza degli adulti che devono andare a guardare cosa fanno i ragazzi perché gli piacciono certi contenuti mediali perché adorano certi videogiochi perché magari sono appunto più accattivanti della scuola di un libro scolastico ci dobbiamo domandare come poter riadattare i nostri codici comunicativi a quello che i ragazzi fanno desiderano vogliono sperimentano durante la loro vita quotidiana quindi secondo me la rischetta è un po' quella cominciare a guardare i ragazzi con un altro sguardo con un altro occhio i ragazzi e le ragazze e a interrogarci però anche noi adulti su cosa possono darci queste tecnologie se usate in una maniera consapevole e critica quindi parlare con loro e anche osservarli no? prestare attenzione guardarli un po' di più sì osservarli e per esempio anche costruire delle pratiche didattiche che anche a scuola partano dai loro bisogni e dalle loro preferenze per esempio mi viene in mente guarda adesso quanto è importante il ruolo degli influencer e degli youtuber sono diventati nuovi gatekeeper del mondo contemporaneo e sono diventate delle figure che i ragazzi imitano proprio perché l'imitazione diventa una strategia di apprendimento informale come l'abbiamo definita nella ricerca imitare queste persone che sono molto vicine a loro in termini di codici comunicativi li aiuta appunto a trovare appunto dei nuovi punti di riferimento però appunto se non conosciamo quello che fanno gli youtuber e quel che fanno gli influencer non ci rendiamo conto di quali siano appunto gli elementi su cui essi fanno leva su cui essi appunto costruiscono poi la loro fortuna e magari stanno nella capacità comunicativa l'ironia che è uno strumento che usano in maniera molto abile e che forse la scuola non usa ma con questo naturalmente non voglio fare una critica alla scuola ai bravissimi insegnanti che abbiamo però alle volte ecco anche la scuola o la famiglia dovrebbero dare uno sguardo a questi nuovi protagonisti mediali per cercare di intercettare pratiche dinamiche che potrebbero avvicinare un po' di più i ragazzi all'apprendimento in una maniera diversa bene bene allora speriamo proprio che il videogioco possa diventare uno degli strumenti prediletti e preferiti nella civiltà digitale perché la sua capacità di immedesimare le persone la sua capacità di unirle a distanza è senza precedenti e al momento ineguagliata da qualsiasi altra forma di intrattenimento che sa anche dare qualcosa a livello di formazione e tanto a livello di socialità grazie Simona grazie a voi hai ascoltato Videogiochi e competenze un podcast di Area X iniziativa d'intesa San Paolo assicura scopri di più visitando il sito areax.info a livello di심are a livello di a livello di che c'è commenta musica